Champ Summer Camp 2024, dal 13 al 17 luglio per il Dipartimento Jazz e dal 17 al 21 luglio per il Dipartimento Pop. Un camp fatto da musicisti per i musicisti. Lezioni di strumento, lettura, composizione, musica d'insieme, jam sterali e un confronto serio e costruttivo sulla didattica e la musica. Teoria e pratica in un contesto favoloso, quale il Poggio Cienina Resort a Buccine, in Toscana. Docenti preparati del panorama jazz e pop, che saranno a vostra disposizione per condividere esperienze e fare musica. Un camp unico nel suo genere. Noi siamo pronti, e tu?